Buongiorno a Sistema Integrator Magazine, qui a LISE 2023, siamo con Maurizio Bellisi allo stand RTI e oggi ci andrà ad annunciare novità su prodotti. Buongiorno a tutti, siamo qui come è stato appena detto alla LISE 2023, nello stand RTI devono presentate tutte le soluzioni che sono state aggiornate nell'ultimo periodo, soprattutto grazie all'aggiornamento del software di configurazione ID11 possiamo avere una grande facilità nella configurazione dei prodotti con un'autoprogrammazione in parte che ci consente di avere delle interfazze grafiche estremamente interessanti ed esteticamente accattivanti, tanto è vero che proprio ieri RTI è stato appremiato con la nuova release del software qui a LISE. Qui possiamo vedere una soluzione di presentazione in cui abbiamo la possibilità di gestione della parte audio tramite il server MS1 o MS3 di proprietario di RTI che permette di una gestione veramente molto semplice, intuitiva ma soprattutto estremamente veloce dei contenuti di streaming disponibili sulle maggiori piattaforme, una su tutte ovviamente Spotify. Possibilità di streamare e visualizzare le telecamere, i sistemi di distribuzione video over IP, quindi una matrice virtuale realizzata con uno switch di rete e trasmettitori e ricevitori che consentono di realizzare impianti di distribuzione audio-video, anche enormi volendo, dotando l'impianto solo dei componenti realmente necessari. Quindi evitare di utilizzare matrici che molte volte sono di dimensioni più abbondanti di quello che può servire realmente. In questa parte invece possiamo vedere una gestione di un sistema multi-viewer che permette di integrare la contemporaneità di più immagine richiamando preset che sono comunque liberamente riconfigurabili dall'utente in caso di necessità. Questa soluzione, anche questa soluzione è un hardware di RTI, quindi il vantaggio è quello di avere un'integrazione completa che, come dicevo di prima, permette la configurazione di impianti anche molto complessa in tempi molto brevi. Ultima novità, KX4, centralina all-in-one con un touchscreen da 4 pollici e nel retro una centralina a tutti gli effetti, completa di Zigbee, il che significa di poter comunicare con un telecomando dedicato direttamente a quella centralina. È un prodotto fantastico per la realizzazione di impianti presso piccole abitazioni oppure sale meeting, sale convegne dove c'è la necessità di controllare un numero non estremamente grande di componenti e fornire un'interfaccia utente estremamente facile. Grazie a tutti.